Siamo al pronto soccorso, arriva un carabiniere, tutto sanguinante qua da questa parte, tenendosi Ahi, ahi, il dolore, sta morendo, maferocchio, maferocchio Allora tutti infermieri, medici lo soccorrono, lo portano subito in sala l'operatore Ma mi dica che è successo, che è successo? Ahi, sta morendo, ha qui perdo il desonorato, il maresciallo, maferocchio, maferocchio Che ha combinato il maresciallo? Che ha combinato? Niente, niente, eravamo all'istruzione per il lancio della bomba a mano E il maresciallo ci fa, è una cosa semplice, è una cosa semplice a bomba a mano Vedi? Questa è una bomba a mano, questa è la linguetta Strappi la linguetta con i denti così, conti da 1 fino a 10 e la lanci Capito? Sì, capito Quando arriva il mio turno, io prendo, ahi, 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 ahi Prendo la bomba a mano, allora questa è la bomba a mano Questa è la linguetta Strappo E comincia a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oh yeah, oh yeah, oh yeah Grazie a tutti